Isaia 53, leggiamo insieme. Isaia 53, leggiamo insieme. Erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le Sue levidure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione, chi riflettè che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce, e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. La parola del Signore, in questo brano meraviglioso che precede di secoli, la realizzazione con la venuta di Cristo Gesù, quale sacrificio espiatorio per la redenzione e per il perdono dei nostri peccati, quest'opera meravigliosa descritta da Isaia con tanto anticipo, si realizza perfettamente nel Signore Gesù e manifesta in questo breve capitolo tutta l'opera del nostro Signore Gesù Cristo. parla di lui come una pianticella che sorge da un arido suolo, a parlare della sua incarnazione, del suo essere terreno, parla della sua morte, del suo vituperio e della sua morte sulla croce, ma parla ancora delle sue sofferenze lungo il corso della vita e dopo la sua morte parla anche della sua resurrezione. e la cosa meravigliosa su cui vorrei che noi fissassimo quest'oggi l'attenzione sta in questo, che tutta quest'opera straordinaria, quest'opera che manifesta l'immensità, la perfezione, la santità dell'amore di Dio, tutta quest'opera è stata messa in atto e portata a compimento per raggiungere un fine, uno scopo, per poter da quest'opera raccogliere un frutto. E questo frutto che l'amore di Dio ha desiderato è la tua e la mia vita redenta. Ora, questo è qualcosa di sconvolgente se noi ci fermiamo a meditarlo attentamente, perché la grazia e la misericordia di Dio sono state più grande del nostro peccato, più grande delle nostre colpe. E così come la parola di Dio ci insegna laddove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata per la salvezza di chiunque crede. Ora, in questo brano bellissimo che parla dell'opera di Cristo, dicevo, noi scorgiamo, e lo vediamo poi nei versi che prenderemo in esame, soprattutto nel verso 10, che l'opera compiuta deve portare un frutto. Dopo la morte, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua, dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Questa soddisfazione a compimento di quest'opera è dovuta al frutto meraviglioso che egli avrebbe portato tra di noi. Ma quest'opera gloriosa, quest'opera straordinaria, è scritto che prospererà nelle sue mani. Il verso 10 parla di questo, ed è su questo che vorrei raccogliere la vostra attenzione. L'opera che Cristo ha compiuto, il frutto che egli vuole raccogliere e che ha voluto raccogliere nel corso della storia, è un frutto che prospera, è un'opera che prospera nelle sue mani. E le mani del Signore Gesù Cristo hanno sempre prodotto meravigliosamente, gloriosamente, dei frutti benedetti. Gli evangelici parlano di Gesù come colui che ha compiuto cose meravigliose e le sue mani erano sempre pronte a benedire, sempre pronte a intervenire, sempre pronte a dare, sempre pronte a toccare, a guarire, a liberare. Quelle mani che parlano dell'opera nella parola di Dio, le mani sono un tipo, un simbolo dell'opera, dell'operare, quelle mani di Cristo ogni qualvolta hanno compiuto un'opera, quell'opera è prosperata meravigliosamente e ha manifestato la sua gloria. Ripenso alle tante volte in cui il Signore Gesù ha posto le sue mani sui malati. I ciechi hanno riacquistato la vista, gli zoppi hanno preso a camminare e i lebrosi sono stati purificati. Il tocco di Gesù, quelle mani benedette, possono ancora far prosperare la sua opera in mezzo a noi. La parola del Signore dice che il braccio dell'Eterno non si è ritirato. Quello che si è ritirato siamo noi rispetto a Lui. Ed è qualcosa di importante che risuona nella mia mente in questi giorni. E voglio parlare di questo aspetto, spendere qualche tempo e poi ritorneremo a pregare. Considerate questo. È impossibile che ciò che le mani di Cristo toccano non prosperi. È impossibile, è un controsenso, no? Come possono le mani benedette dell'Onnipotente non generare un frutto glorioso e non far prosperare l'opera che Egli intende portare a termine? Tutto quello che Egli ha toccato è stato benedetto. L'esempio più glorioso e più grande, dal quale dobbiamo partire per il nostro esempio, è sempre stata la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il compito era stato affidato ai discepoli. Andate, date loro da mangiare, poiché questa è la volontà del Padre, che la Sua misericordia e il Suo amore giunga nella provvidenza a tutti coloro che sono dinanzi a Lui e invocano il Suo nome. Andate, date loro da mangiare. Ciò che i discepoli avevano era insufficiente, ma fecero una cosa preziosa. Prima di distribuire quel poco che avevano, presero misero nelle mani di Gesù. E l'opera affidata ai discepoli prosperò e fu la manifestazione della provvidenza e della misericordia di Dio. Vedete, quello che serve affinché la mia vita, la tua vita sia prospera, affinché il compito che Lui ti ha affidato, la missione che Lui ti ha affidato, il servizio che Lui ti ha affidato sia prospero, e che tu metta la tua vita, il tuo servizio, il tuo bisogno, il tuo peso nelle sue mani. È lì che l'opera prospera. Ma vedete, e lo capite da voi, quando io devo porgere qualcosa a qualcuno e dalle mie mani passarlo alle sue mani, ci deve essere un avvicinamento, ci deve essere un contatto, le mie mani vengono a contatto con le sue e lascio il peso nelle mani di chi lo prende. Questo è il pensiero che dobbiamo innanzitutto tenere a mente. Quando vogliamo che qualcosa prosperi, dobbiamo accostarci a Dio così vicini a Lui da poter mettere il nostro peso, la nostra vita, nelle sue mani. Le nostre mani devono arrivare in contatto con Lui. Vedete, il problema più grande, e questo credo che sia veramente un punto su cui dovremmo riflettere, il problema più grande è che troppe volte la nostra vita vive a distanza da Dio. È per questo che non prospera, poiché la nostra vita non è così strettamente a contatto da potersi affidare, abbandonare nelle sue mani. È come se volessimo che Dio operasse a distanza, ma se vuoi che l'opera tua, la tua vita, ogni cosa della tua esistenza prosperi, tu devi porre ogni cosa nelle mani di Dio. e per fare questo dobbiamo accostarci a Lui. Vedete, io credo profondamente una cosa, che la ragione per cui molta sterilità c'è intorno a noi oggi è dovuta al fatto che siamo lontani dalle mani di Cristo Gesù. La parola del Signore ci mostra le folle che si accalcavano intorno a Gesù perché voleva che le sue mani si posassero su di loro. Le madri portavano i figli affinché Lui ponesse le sue mani su di loro. E noi quanto investiamo del nostro tempo per portare la nostra vita così vicina a Lui da essere posta nelle sue mani. Perché vedete, quelle mani benedette fanno prosperare ogni cosa. E c'è qualcosa che nella nostra vita deve prosperare. Il frutto che il Signore vuole raccogliere come controparte del prezzo pagato sulla croce. Voi lo sapete che il Signore è morto ed è morto per avere un frutto. Noi siamo quel frutto ma noi non siamo solo il frutto noi siamo gli operai che sono stati chiamati da Dio a portare altro frutto. Ora io credo perfettamente che ciò che Dio tocca che ciò che Dio ha nelle mani prospera necessariamente. Sarebbe un'assurdità pensare il contrario. E allora io e voi abbiamo il bisogno di mettere il servizio che ci è stato affidato la nostra vita tutto quello che riguarda la nostra esistenza nelle sue mani. E questo mettere nelle mani di Dio non vuol dire solo accostarsi a Lui ma avere fiducia in Lui. Non fissare lo sguardo su te stesso fissalo su Cristo Gesù fissalo su quelle mani benedette perché è Lui che porta il frutto. Vedete la parola di Dio dice bene la messe è grande ma gli operai sono pochi la messe è grande ed è prospera è prospera è piena di frutto perché questa è l'opera di Dio. Noi dobbiamo andare nel campo per portare frutto ma prima di scendere nel campo abbiamo bisogno di affidare il nostro servizio la nostra missione nelle mani di Dio. Vedete molte volte il diavolo distoglie lo sguardo e ci pone pone nella nostra mente il pensiero che la prosperità dell'opera dipenda da noi. L'opera sua prospererà nelle sue mani. Ecco perché tutto quello che Dio ti chiede tutto quello che tu fai per Lui tutto quello che tu sei deve essere posto nelle sue mani accostandoti a Lui ed avendo fiducia in Lui. Signore gestisci tu la mia vita gestisci tu il mio domani gestisci tu il mio presente Signore ogni mattina io pongo la mia giornata nelle tue mani le mie scelte nelle tue mani non voglio essere io ma voglio che sia tu a guidare la mia vita perché se sono le tue mani a dirigere i miei passi allora i miei passi prospereranno se sono le tue mani a benedire l'opera che tu mi hai affidato allora prospererà se la mia vita è custodita con Cristo in Dio nelle sue mani allora io so che attraverso forse mille tribolazioni ma il frutto sarà manifesto l'opera di Dio prospererà nelle sue mani ed è dunque nelle sue mani che la nostra esistenza deve essere posta che ogni cosa che intraprendiamo deve riposare e nelle sue mani che tutto della nostra vita deve essere messo ogni giorno troppe volte siamo tentati a gestire le cose da noi per essere indipendenti a prendere i pesi su di noi invece di portarli a colui che ogni giorno vuole portarli per noi troppe volte siamo indipendenti da quelle mani ma non si può essere indipendenti da quelle mani non è possibile esserlo se vogliamo che l'opera sua prosperi che la nostra vita sia fruttuosa noi abbiamo bisogno di affidarci a lui accostarci per affidare con fiducia a lui ogni peso che la nostra vita ha e porta ma c'è un altro aspetto su cui voglio farvi riflettere quello che dicevo da principio Gesù muore per portare un frutto per avere un frutto è per questo che Gesù muore sulla croce e vedete io credo che il Signore sia degno per il prezzo che ha pagato di ricevere abbondante frutto per il sacrificio che egli ha compiuto per l'intera umanità e quel frutto siamo noi che dobbiamo andare prendere e portare a lui egli ha preparato una messe che è pronta da mietere ma siamo noi che dobbiamo andare e prendere quel frutto che egli ha già fatto crescere e che è pronto alla mietere ma molto spesso la nostra mente pensa o che non è il tempo o che non ci sono le opportunità o che non siamo all'altezza di determinati compiti o opere la realtà è che dovremmo accostarci a Dio e dire Signore io so che nelle Tue mani l'opera Tua prospererà affido a Te la mia vita affido a Te la capacità di portare frutto e voglio che siano le Tue mani a benedire ogni opera mia affinché Tu possa dalla mia vita raccogliere quel frutto per il quale Tu sei morto le mani benedette del Signore sono sempre pronte a moltiplicare le forze a moltiplicare le risorse a moltiplicare le sue benedizioni a donarci capacità che non pensavamo di poter mai raggiungere a benedire ogni cosa che intraprendiamo affinché Egli possa ricevere il frutto del tormento dell'anima sua voglia Dio darci in quest'oggi questa visione di fede Signore non nelle mie mani ma nelle Tue mani affido ogni cosa che appartiene alla mia vita il mio presente il mio domani le mie scelte le mie decisioni il mio servizio tutto di me nelle Tue mani perché voglio che sia la Tua benedizione a farla prosperare e perché attraverso questa prosperità tu possa raccogliere un frutto abbondante dalla mia vita personale in santità e in consacrazione in servizio in amore in adorazione e attraverso il mio servizio altri possano giungere a te perché perché se la mia vita il mio servizio è nelle Tue mani tu lo farai prosperare e mi darai la grazia di portare un frutto abbondante per la Tua gloria l'opera di Dio prospera ma prospera nelle sue mani siano le nostre mani in contatto con le sue mani per affidare a Lui ogni cosa che facciamo ogni cosa che vogliamo portare a compimento e nelle sue mani l'opera sua cioè quella che Lui ci ha affidato prospererà così come anche la nostra vita sia questa la nostra fiducia e accostiamoci a Lui pienamente per poter essere certi e sicuri di vedere frutto abbondante per la gloria di Dio di Dio